E' stato arrestato ieri dalla polizia di Gela il presunto autore del tentato omicidio di un uomo di nazionalità romena a seguito dell'accoltellamento perpetrato nella notte del 4 aprile scorso. Dopo un'intensa attività investigativa sviluppata immediatamente dopo il fatto, attraverso la ricostruzione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona teatro dell'evento criminoso e grazie al contributo dei testimoni oculari si è delineato un grave quadro indiziario a capo di Mihai Remus Dinga, il dirigente del commissariato di Gela Francesco Marino. Voglio sottolineare la grandissima capacità che in questo caso l'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico sotto la direzione della dottoressa Lavoro Romano ha manifestato dall'inizio del fattaccio, vale a dire il tentato omicidio che come abbiamo evidenziato nel comunicato stampa non si è verificato solo per una pura fatalità e da quando i ragazzi del 130 sono intervenuti sul luogo della violenta lite sfociata poi nella coltellata alle giornate seguenti non hanno mai abbandonato la speranza di riuscire a individuare questo soggetto che come capite bene già molto spesso a Gela c'è poca collaborazione, di questo sempre noi forse dell'ordine con la magistratura sollecitiamo più sinergia figuratevi all'interno della comunità romena quanta poca collaborazione il personale operante ha ricevuto malgrado ciò si è riusciti analizzando strumentazioni tecniche, mi riferisco alle telecamere dei luoghi a un ottimo rapporto che poi si è staurato anche con la vittima grazie alla libertà degli operanti ad avere quegli indizi poi peraltro gravissime raccolte che hanno permesso l'autorità giudiziaria di fare la richiesta al giudice che ci ha dato la misura cautolare proprio per mettere un punto fermo alla risoluzione di questo efferato gesto vale a dire appunto il tendato omicidio per giunta per futili motivi